Gli eco-criminali non guardano in faccia a nessuno e non arretrano di fronte a nulla. Che sia legge o covid non fa differenza. Con buona pace dei principi morali hanno continuato a guadagnare a danno della salute dei cittadini e dell'ambiente. A raccontarlo, delineando ancora una volta lo stile mafioso, è l'edizione 2021 del rapporto Eco-Mafia, redatto da Lega Ambiente in collaborazione con le forze dell'ordine. Gli artigli degli eco-criminali sono dappertutto, rifiuti ovviamente, ma anche gestione delle sostanze tossiche e colate di cemento illegali con edifici e quartieri costruiti abusivamente a danno del paesaggio e degli ecosistemi. 1.211 reati accertati, 1.815 persone denunciate e 430 sequestri danno in realtà l'idea del valore importante, soprattutto a livello economico, del ciclo della criminalità nella nostra regione. Noi dobbiamo pensare a un dato nazionale, i sequestri e le sanzioni amministrative erogate hanno un valore di quasi 2 miliardi. Rapportare questo valore quindi a questa posizione di metà classifica ci dà il valore di quanto anche in Abruzzo in realtà il peso economico della criminalità ambientale abbia fatto degli investimenti importanti. La provincia di Chieti con il balzo in avanti nei reati regati al ciclo del cemento, la provincia sempre di Chieti rispetto purtroppo ai rifiuti seguita dalla provincia dell'Aquila, la provincia di Pescara con il numero molto molto alto di reati regati ai reati contro la fauna su terraferma e mare e quindi con un ampio apporto della pesca illegale ci danno proprio l'idea di questo. In uno stallo apparentemente economico dovuto alla pandemia le imprese che hanno operato in maniera criminale hanno continuato ad andare avanti. Per quanto riguarda ovviamente i reati contro la fauna e gli incendi boschivi è più forte nella nostra regione data l'amplissimo territorio quindi protetto e le specie protette su cui si lavora l'impatto che questi reati hanno. Voi chiedete un sostegno maggiore perché non basta avere la riduzione delle spese legali bisognerebbe avere anche la gratuità. Noi chiediamo esattamente l'accesso gratuito quindi alla giustizia in ogni ordine grado. Bisogna considerare che Legambiente ha un centro di azione giuridica nazionale seguito quindi da avvocati che lavorano in maniera volontaria ovviamente. Quante sono, diceva Di Marco se non ricordo male, le vertenze in cui Legambiente è attiva in questo momento in Abruzzo, una quarantina ho capito bene? Si parlava di una quarantina di vertenze articolate in maniera diversa tra quindi ciclo di rifiuti, ciclo del cemento, consumo del suolo, la discarica di bussi che per noi è rappresentato negli anni una vertenza impegnativa e tuttora aperta.